buongiorno e buon sabato allora sapete che sabato la mia anima nera dell'astorico torna a galla e qui oggi non uno ma ben due video di film allora uno è dedicato a greg perché ma il secondo è una richiesta di un suo iscritto michei che mi ha detto di diciamo così di sparare della morbida la palla a greg per cui prima faccio questo che è un reboot di un mio vecchio vecchio video non vale neanche la pena andare a recuperarlo e poi partiamo con le spranghe e proprio perché è un reboot è il reboot di uno dei film più fetenti che abbiano mai fatto che diciamo così non ha proprio pitturato bene l'immagine dell'italia e che qualche critico probabilmente sotto pesanti dosi di bamba sta tentando anche di rivalutare il film in questione e alien 2 sulla terra a piccola premessa non lo trovate in italiano youtube la piattaforma italiana ha la vendita o noleggio del prodotto però la piatta for le piattaforme spagnole e portoghesi ve lo danno gratis è disponibile gratis su in italiano è non in in portoghese o spagnolo in italiano è disponibile su canali portoghesi e spagnoli anzi su uno dei canali spagnoli addirittura integrale ora la differenza tra la versione recuperabile facilmente la versione integrale che ci sono le poppe e un paio di scene sono un filo più allungate proprio una roba che ti cambia la vita del film no cioè se si considera che questo qui è riuscito a farsi da ciro ippolito una disgrazia vivente c'è uno era regista dei film di mario merona tutto rispetto per la figura di merona nella canzone napoletana però come attore era una roba inguardabile ecco questo era il suo regista proprio altissimo livello ricordatevi che questa ciro ippolito il suo il suo socio sono riusciti a fumarsi quasi tutto il budget 400 testoni che gli erano gli erano stati dati per fare un film basato su alien non tanto l'alien dire di scott ma manco ci dovevamo provare ma sapete era uscita la cosa e alle tutti dentro a pucciarci il biscotto è uscito alien uscita la cosa avanti tutti dietro no tra l'altro ci fu una causa proprio da parte della produzione di alien verso ippolito che però se la cavò se la cavò perché esisteva un romanzo del 31 intitolato alien quindi non c'era per così dire un copyright sul no sulla parola tra l'altro la parola è generica perché alien è una parola generica in inglese quindi vabbè è anche divertente il fatto che quando uscì vedescente bel film assolutamente ve lo consiglio fu ippolito a fare causa ai produttori di vedescente vedescente scusatemi perché gli avevano copiato l'idea non è copiata per un cazzo tanto per essere chiari ma c'è anche una bella faccia è ecco questo qui questo regista che ha prodotto sto sgaborto adesso si sta cercando di rivalutarlo tanto stante rivalutando anche i cine panettoni tra un po cosa rivalutiamo lo scarico dei collettori fognere abbiamo rivalutato tutto è cioè a quando candideremo alex larietta all'oscar o dreamland ai gondel globe vabbè la storia la conoscete quindi faccio anche spoiler veloci perché chi ha avuto la sfortuna in quattro gatti di aver visto il mio video vecchio lo sa abbiamo un'astronave una navicella che deve rientrare dallo spazio a bordo non c'è nessuno i giornalisti che taroccano il servizio evidentemente anche nella fiction deve essere un vizio questo gruppo di speleologi di cui una è telepate sa che non c'entra un cazzo non è telepate è una che ogni tanto gli parte la brocca vabbè che vanno sotto questa caverna in cui ci sono gli alieni questi alieni che teoricamente arrivano con dei sassi piovuti dal cielo e però sono già anche sotto terra perché si spostano velocemente si uno lo porta lo porta lei perché glielo regalano guarda che bel sasso blu te portatelo dietro tanto andiamo in un posto in cui sassi non ci sono ma gli altri sono già lì perché di alieno non ce n'è uno solo ci sono i gruppettoni di questi tentacoloni rossoni bruttoni la visuale dell'alieno l'ho già detto in altri video è fatta con la trippa letteralmente buttano la trippa sopra la telecamera e così l'ha dato bava perché insomma questi qui si sono fumati quasi tutto il budget quindi si fa con quello che si ha l'unica cosa buona del film buona nel senso buona perché la persona vale ma purtroppo buona per lui è la presenza di michele suavi e se qualcuno non ha mai visto della morte dell'amore si è perso qualcosa si è perso un bel film grottesco nonostante la presenza di anna falchi ma anche la chiesa di cui argente solo il produttore tra l'altro nella chiesa piccola citazione c'è anche asia argento ma essendo una bambina fa pochi danni recita già male però fa pochi danni però c'è una bellissima immagine che è un mister di un dipinto di boris vallejo quando il demone abbraccia la ragazza ignuda e la trascina è praticamente identica a un disegno abbastanza famoso di vallejo degli anni settanta va bene dicevo vengono assaliti da questi alieni che saltano fuori dai sassi zumpano che peggio dei grilli si attaccano qualche animale lo infettano infatti c'è il topo alieno che non si capisce perché gli umani se li magnano e i sorci no sarà una questione di palato tra l'altro noi capiamo che quei sassi sono pericolosi perché c'è una bambina che sta cercando di svuotare il mare col secchiello e c'ha dei pazzi anzi sta riempiendo il mare col secchiello quindi delle due luna o la mamma ha lasciato roba strana sul tavolo o te non stai tanto bene e poi va a toccare uno di questi sassi perché tu vedi un sasso che respira la prima cosa che fa andare a toccarlo e il sasso gli emagna la faccia c'è questa quindi sappiamo che questi sassi sono pericolosi poi lei che telepate entra in contatto anche con questi alieni tanto da capire dove sono a dire uno di suoi dice ce l'hai sopra di te sì bene una volta che me l'hai detto che cazzo ci devo fa poi riconosce a distanza se uno è umano alieno un potere utilissimo è non si capisce cosa ci fa vabbè e poi vabbè la squadra viene letteralmente decimata detto con effetti speciali astronomici dagli alieni che escono dal torace che sembra che stiano aprendo la il barattolo della frutta sciroppata o che fanno i saltoni che manco van dammi in quella in quel aborto orrido di street fighters fina finale escono lei e il suo bello diciamo così per semplificare le sue cose lei il suo ganso lei il suo fesso perché ovviamente questa squadra di speleologi espertissimi espertissimi diciamo che se ne fotte delle regole della speleologia per cui sia in gruppo ma sì ma dividiamoci non va per i cazzi suoi l'attrezzatura che hanno è quanto meno equivoca io ho visto un altro film ma non mi ricordo il titolo in cui c'erano sette monaci maldetti e anche lì c'erano degli speleologi l'attrezzatura sembra la stessa evidentemente il discount locale la vendeva dicevo escono dalla grotta loro due e non trovano nessuno trovano una macchina della polizia abbandonata vanno al negozio all'empoio che aveva venduto le provviste un empoio ottenuto da una nonna che probabilmente era la era la figlia di toro seduto anzi probabilmente era la mamma di toro seduto vista l'età e non trova più nessuno anche lì arrivano in città non trovano nessuno neanche in città perché evidentemente questi prugnoni dentro i sassi ha fatto ha fatto il devasto vanno nel nel bullying dove si erano trovati ma di partire e anche lì non trovano nessuno furbi come una quaglia loro si separano perché lui vuole andare a vedere dietro le macchine evidentemente anche lì ci sono i prugnoni saltellanti che se lo beccano infatti poi vediamo lei che fugge mentre l'alieno trippa perché quadratura della telecamera con trippa sopra l'alieno trippa la insegue ma lei scappa e l'idea del film è che gli alieni hanno spazzato via tutti due minuti netti praticamente quanto cazzo sono rimasti sotto terra un giorno più o meno questi in un giorno hanno fatto il devasto vabbè che dire gli attori vabbè lasciamo perdere ecco salvi un bravissimo regista ma come attore è discutibile l'espressività anzi non siamo i livelli mitologici di certi certi attori o attrici italiani non so mi viene in mente esempio nicoletta braschi che lavora solo perché è sposata con benini perché se mi dicono che lavora perché è brava qualcuno ha dei problemi però se diciamo il film fa talmente schifo che secondo me la loro prova migliore di recitazione non mettersi a ridere quando te vedi arriva la telecamera con la trippa sopra ecco o sorcio che è diventato sorcio mannaro sti sti alieni che non si capisce come fanno appena precipitati dal cielo essere già sotto terra e che la mizga cos'è hanno usato il cannone di alien verso il predator quello che scavala il buco per arrivare al tempio non lo so è cioè non c'è una grande logica in questa scrittura si voleva cavalcare l'onda della situazione claustrofobica di alien per cui si è tutti in uno spazio ristretto non si sa come cavolo ci si deve muovere tutto con l'alieno feroce invincibile o più o meno cioè qui ve l'ho detto almeno cioè n'alieno xenomorfo è diventato iconico a me la trippa sulla telecamera è difficile che diventi iconica e l'alieno quando non è trippato sulla telecamera è un prugnone rosso che boh non si capisce che forma abbia cercate di dargli un contesto è ovvio che se c'hai le pezze fai con quello che hai però le pezze non se le è create non se le è create per sbaglio perché gli ha investiti male tutto no perché se gli è maniati a far minchione poi da tutto va a fare le interviste si deve arrampicchiare sugli specchi raga io ho sentito anche interviste di mattei che cercava di spiegare certe scelte sì ma tu puoi spiegarle finché vuoi ma se uno guarda la tomba e pare di vedere gardalan con i cosoni in polistirolo puoi spiegare tutto quello che vuoi cioè fregasso può anche dire che l'hanno messo lì a sforzo a fare operazione vacanze sì ma ti ha messo lì a sforzo e poi tu riesci a dirigere calai in un modo osceno considerando che calai già osceno di suo sai che risotto e se qualcuno ha dei dubbi su quanto osceno cala il film lì è praticamente impossibile da recuperare l'hanno buttato fuori da tutto tutto il possibile in italia è uscito solo città gli a uno per dire non è mai uscito al cinema in america l'hanno bannato da quasi tutte le piattaforme cioè chicken park ecco potete potete andare a recuperare la stroncatura di di scream di stroncando l'orrore insieme a mighty pirate perché veramente il film è è introvabile e per fortuna ecco sì dico qui siamo lo stesso discorso cioè un regista che prende l'idea di un altro la pasticcia faccio notare che nello stesso periodo esempio è uscito anche alien degli abissi che l'alien non c'era gli abissi in docazzo erano perché era un laghetto du cojoni che non finivano più a guardarlo vabbè produce un film che ruba le idee dagli altri le ruba senza neanche vergognarsi e cerchi anche di giustificarti cioè ma io c'ho pesato ti sei mangiato i soldi per il budget che ti avrebbero costruito di fare un film altro che dignitoso soprattutto perché potevi comunque ingaggiare degli effettisti di qualità con quei soldi e a cosa hai prodotto un alieno ha fatto con la trippa quando non è tripato è un prugnone rosso che non si capisce che cazzo è un gruppo di disperati che chissà perché quando sono sotto terra si comportano da coglioni uno più dell'altro un par dei pop è messa lì a caso l'idea di fondo che sono arrivati sti alieni hanno fatto il devasto e poi con la frase finale che scusatemi stai attento potrebbe essere ma come fa potrebbe essere uno di loro se questi quando sono infettati ma sono delle statue la prima che infettano rimane lunga finché non l'alieno non esce l'altro che infettano se muove che parampupazzo con le molle ma che cazzo stai dicendo ma quanti di quei sassini devono essere arrivati giù per segare tutta una città di migliaia di abitanti cioè ci dovrebbero essere sassi in giro dovunque nel film se ne vedono tre o quattro quello che la bambina furba come una quaglia bello blu respira chissà che cos'è vabbè l'altro eh ho visto un sasso blu dietro qui la locanda della mumia della mamma di toro seduto portatelo dietro tanto dove cazzo vuoi che andiamo in un posto in cui i sassi non ci sono cioè ragazzi sì c'è qualche bella inquadratura nel senso che sono buoni tutti eh delle delle caverne delle delle stalattiti così delle delle formazioni calcare non sono un esperto quindi se dico una fregnaccia scusatemi ma sarà mica quello che salva un film da merda cioè si sa già dove si va a finire cosa succede che per non fare proprio proprio il copia incolla la dell'idea non ovviamente sceliggiatura separate ma dell'idea per non fare il copia incolla cosa fanno ci mettono il classico finale terribile ma raga ma per fare il finale terribile non ci vuole niente eh cioè tra l'altro l'alien è uno lo xenomorfo nel primo film è uno e basta avanza eh per fortuna qui sono tutti sti prugnoni boh che c'è detto ma comunque già l'idea di uno che deve fingere di essere spaventato con la telecamera con la trippa sopra ragazzi è tanto grazie all'attore che ci hai uscito eh perché se ti vedi cioè tiri fuori la pagnotta e dici aspetta qui facciamo la zuppetta con la telecamera poi immagino la telecamera come la pulita dopo ma è quello che fa incazzare veramente è che ci sono registi che non hanno mai avuto grandi possibilità economiche quando a uno gliele danno le butta del cesso per questa vaccata orrida e ce ne sono pochi di film brutti di quel periodo più brutti di questo più in mente pagadini oro tanto per dirne uno per cosa per andare a fare lo zozzone a spenderli a can fare il ganassa perché di soldi tuoi non ne hai tra l'altro io vorrei capire i finanziatori stranieri come ha fatto dare dei soldi a sto qui senza guardare il materiale perché ragazzi bastava guardando qualsiasi film con mario merola eh cioè io mi ricordo e qui ringrazio screen perché l'ha messo in una sua stroncatura di alien 2 ma c'è la scena in cui mario merola spara e sì non ci sono in mazzo al fè sono tutti sfasati ma non solo lui muove la mano che quando la pistola è scarica come se ci fosse il rinculo tanto per dire dal livello no e quello è buona la prima e raga qui siamo non siamo a livello del buona la prima è buona la prima e mezzo buona la seconda no secondo me era molti buona la prima ma non c'erano anche i soldi per la pellicola ma dateli a fulci quei soldi lì dateli a soavi dateli a registi che quel tempo potevano dire qualcosa non a sto cialtrone che ci aveva una carriera cinematograia che con loro non c'entrava un cazzo sì nel senso i suoi film facevano orrori ma non erano film horror ma tant'egli e li hanno dati e lui è uscito a partorista a schifezza quello che però è allucinante che veramente ci siano dei critici che cerchino di rivalutare ste boiate con quella filosofia del cazzo per cui eh però c'è stato impegno e creatività che cazzo vuol dire anche in erdemic c'è impegno e creatività ma se uno lo guarda dopo mezz'ora si prende prende la mazza da fabbola la mette direttamente nella fornace poi si massacra le parti basse del corpo soffre meno che cavolo vuol dire c'è creatività tra l'altro poi lo stesso critico che dice ma 2011 nello spazio ma e lì prendi veramente c'è da far buonissima giustizia te portiamo a campo dei fiori ma stavolta non c'è nessuno che si lamenti in tutto il mondo che ti abbiamo arrostito è perché non si può sentire una roba così va bene ragazzi è stato un recupero veloce di un bruttissimo film che se lo volete guardare ve l'ho detto c'è gratis sui canali sui canali iberici invece sulla piattaforma italiana c'è a pagamento guardatelo sui canali iberici tanto ve l'ho detto è in italiano sottotitolato in spagnolo e portoghese quindi che ve fredda questo è un piccolo assaggio caro greg perché il cannone che fa veramente male arriva dopo quindi preparati e